Ciao a tutti, io sono Giuseppe Catalano. Diciamo che questo film del cammino mi ha piaciuto anche un po', ma il mio film preferito è che ho guardato l'aquila. L'aquila è la mia animale preferita, grazie a cielo che l'avevano adottata, perché se non l'avevano adottata l'avrebbero uccisa. Io non volevo vedere una creatura morta, volevo vedere viva, che viva. E al tuo ritorno, per festeggiare, che succede? Tatuaggio. L'hai già scelta? Mi faccio l'appia. Dove lo fai?